ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario primo latte gattino informazioni commerciali titolare elanco italia spa concessionario elanco italia spa confezioni primo latte gattino barattolo da 200 grammi polvere con misurino da 5g formulazione latte derivati del latte 80 per cento oli e grassi sostanze minerali componenti analitici proteina grezza 28 per cento fibra grezza 0 per cento grassi grezzi 24 per cento ceneri grezze 7 per cento calcio 0,86 per cento fosforo 0,6 per cento additivi nutrizionali vitamina 25.000 ui chilogrammi vitamina c 520 mg barra chilogrammi vitamina d 6 3 2 mila ui chilogrammi vitamina e 200 mg barra chilogrammi colina cloruro 4000 mg barra chilogrammi colina 3000 mg barra chilogrammi taurine 200 mg barra chilogrammi chelato di zinco di amminoacidi idrato 400 mg barra chilogrammi zn 40 mg barra chilogrammi sulfato rameico pentahidrato 20 mg barra chilogrammi q 5 mg barra chilogrammi sulfato di ferro monoidrato 240 mg barra chilogrammi feo 80 mg barra chilogrammi sulfato di manganese monoidrato 62 mg barra chilogrammi mn 20 mg barra chilogrammi ioduro di potassio 0 e 18 mg barra chilogrammi i 0 e 14 mg barra chilogrammi sodio selenite 0 e 22 mg barra chilogrammi se 0 e 10 mg barra chilogrammi indicazioni mangime completo d'allattamento per il gattino fino allo svezzamento contiene taurina e colina proteine specifiche per il corretto accrescimento dei gattini posologia introdurre nel biberon la quantità di polvere indicata in tabella far bollire a parte il quantitativo d'acqua indicato in tabella e successivamente lasciarla raffreddare fino al raggiungimento di una temperatura di ca 38 a gradi versare quindi l'acqua tiepida ca 38 a gradi nel biberon e mescolare assieme alla polvere si può preparare il latte per l'intera giornata conservandolo poi in frigorifero prima dell'uso riscaldarlo nuovamente ad una temperatura di ca 38 a gradi e rimescolarlo accuratamente tenere sempre acqua fresca a disposizione del gattino diluizione gattini fino a 35 giorni di vita 30 g barra 100 ml di acqua gatti adulti 20 g barra 100 ml di acqua frequenza di somministrazione e dosi nei gattini orfani in questo caso primo latte gattino all'unico alimento che il gattino riceve da 0 a 21 giorni ogni due ore da 21 a 35 giorni ogni 34 ore dalla terza settimana a possibile iniziare lo svezzamento dopo i 35 giorni ogni 12 ore altri gattini e gatti adulti in questo caso primo latte gattino a solo parte dell'alimento che l'animale riceve dose da somministrare gatti in crescita e gatti adulti fino a 100 ml barra giorno gatti in gravidanza o allattamento fino a 150 ml barra giorno fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato